Ragazzi, io non ho davvero più parole per descrivere questa situazione, per descrivere questo, boh, cos'è un sogno, un incubo, cioè cos'è questo scempio, ma ragazzi ma ci rendiamo conto di dove siamo arrivati in Italia, ci rendiamo conto di cosa stiamo facendo per questa partita di calcio per Juventus-Inter, cioè ragazzi ma siamo fuori, ma siamo fuori, cambiamo di nuovo data ora. Cambiamo di nuovo tutto, andiamo a giocare Juventus-Inter mercoledì perché Piangina Marotta, poverino Piangina Marotta, descrive la Juventus come una società che ha falsato il campionato, come la Juventus che ha deciso le sorti del campionato, che ha deciso lei di sua spontanea volontà di spostare la partita al 13 di maggio. Allora, ora, ma dico io Marotta, ma ci sei o ci fai? Cioè ci sei o ci fai? Sei tu il primo, sei tu il primo che sei dentro alla Lega Serie A Team? Sei tu il primo che dovrebbe in un certo senso essere dentro a questo mondo e aver visto le decisioni in prima persona, aver visto le decisioni che sono state prese per queste partite che sono state rinviate, o meglio che dovrebbero essere state rinviate al 13 di maggio. Cioè, all'Inter, apriamo una parentesi, è stata data, era stata chiesta la disponibilità di giocare Juventus-Inter domani, ovvero lunedì, a porte aperte. L'Inter, l'Inter, ha rifiutato categoricamente di scendere in campo lunedì perché non le sembrava una scelta corretta. Allora, dico io, oggi domenica, oggi domenica alle 20.45 andava tutto bene, andava tutto bene giocare Juventus-Inter a porte chiuse, a tempi, a porte chiuse. Allora lì era tutto a posto, era perfetto. Giocare oggi, domenica a porte chiuse Juventus-Inter per loro era stupendo. Perché? Perché ci guadagnavano, ma perché? Perché l'Inter sta facendo solamente i comodi loro, non hanno capito che sono dei pagliacci, che si stanno dimostrando delle persone ridicole, che si stanno lamentando di questa partita che è stata spostata al 13 maggio e che si giocherà in maniera regolare, come si sarebbe dovuta giocare con un pubblico, con un pubblico, normalmente. No, a loro andava bene giocarla a porte chiuse. Perché? Perché ci guadagnavano. Perché? Perché ci guadagnavano. Allora stanno tirando su tutto questo casino per cercare di nuovo, per giocare di nuovo, un qualcosa su cui attaccarsi. Cioè ragazzi, ma ci rendiamo conto? Ora l'Inter, non so chi, forse De Laurentiis in questo caso, non c'entra niente l'Inter. De Laurentiis ha detto, giochiamo Juventus-Inter mercoledì e spostiamo la gara di Coppa Italia a maggio. Ma oh, ma che cazzo, ma ci siamo, ma ci siamo, ma stiamo scherzando. Cioè, questo non perché la situazione, cioè non perché Juventus-Inter giocare a mercoledì sarebbe un problema. Perché a me andrebbe bene, non c'è nessun problema. Ma perché dobbiamo spostarla? Per dare una dimostrazione, per dare una dimostrazione che la Juventus non ruba. Cioè, dobbiamo spostare la partita per dare la dimostrazione che non era in realtà un campionato falsato. Ma ci siamo. Ma ragazzi, ma dove cazzo siamo arrivati? Ma stiamo scherzando. Io ve lo giuro, ragazzi, sono senza parole. Non so più cosa dire, non so più cosa dire. Cioè, ci stiamo attaccando su delle cose che non esistono né in cielo né in terra. Cioè, stiamo facendo dei discorsi, delle cose, solo per dare contro la Juventus. Ma poi in che modo? Senza delle basi. Senza dei criteri per i quali andare contro la Juventus. Cioè, oltre a Juventus-Inter sono state rimandate altre quattro gare di campionato. Allora cosa facciamo? Juventus-Inter la giochiamo mercoledì. E le altre quattro gare di campionato le teniamo al 13 maggio. Ma ci siamo. Ma questa, ragazzi, è una follia pura. È una follia pura. Ma poi il rispetto nei confronti dei tifosi dove sta? Dove sta? Se dovessimo adesso spostare la partita a mercoledì, i tifosi che magari avranno preso dell'impegno, magari che arrivano da fuori, come vi ho già detto in un altro video, che arrivano dall'estero, che arrivano dalla Sicilia, che hanno degli aerei da prendere, che hanno tanti soldi da spendere per un viaggio. Cos'è? Prendiamo un'altra decisione oggi per dopodomani. Ma ragazzi, ma dove siamo arrivati? Ma di Laurentiis, ma ci sei o ci fai? Ma ci sei o ci fai? Ma poi per quale motivo? Per quale motivo? È stata presa quella decisione ufficiale, è stata presa quella decisione ufficiale di giocare quelle cinque partite il 13 maggio, che poi poteva essere rinviata tutta la giornata, al 13 maggio è un altro discorso? Ma non ha senso adesso spostarlo, non ha senso. Questa è un'ipotesi che è tirata su da Laurentiis, non è niente ovviamente di ufficiale, non si sta dicendo che si giocherà mercoledì Juventus-Inter e che la Coppa Italia sarà rimandata a maggio. Questa è semplicemente una delle tante cazzate che dice della Laurentiis per dare aria alla bocca. Però anche solo il fatto che l'Inter abbia rifiutato di giocarla domani a porta aperte perché non era consono, non era consono perché dovevano giocare la Coppa Italia giovedì. Ma la Juventus giocava la Coppa Italia in caso mercoledì, ma che poi fosse stata una decisione sbagliata perché la Juventus ovviamente avrebbe avuto un giorno per riposare è un altro discorso. Però ragazzi, ma ci siamo, ci siamo, ma dove siamo arrivati? Io boh, non ho davvero parole. Mi sembra di vivere un film, un film che sia horror più che probabilmente di una storia amorosa felice. Però vabbè, ragazzi, questo è quanto. Ora, io sono del parere che la partita rimarrà il 13 maggio e che non bisogna spostare niente per dare nessuna dimostrazione a nessuno perché i primi pagliacci sono loro avendo rifiutato categoricamente di giocare la partita domani. Domani a porta aperte. Perché? Perché come vi ho già detto, li faceva comodo. Loro volevano solamente giocarla oggi a porte chiuse. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento. Io sono esterefatto, lo giuro. Non so più cosa dire. Basta, basta. Prendiamo fino a questo capitolo. Prendiamo delle decisioni. Le decisioni sono state prese e rimangono tali. Punto e basta. Delle voci che tirano fuori gli altri a me non me ne frega niente. Detto questo, iscrivetevi a casa quando avete fatto. Lasciate un mi piace. Iscrivetevi, o meglio, seguitemi anche su Instagram. Mi raccomando, trovate il link qua sotto nella descrizione. Qui le benve è tutto. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Sempre, forza io, entus. Inter ti odio, intermerda. Ciao.